Gabriel, oggi quasi 90 minuti di gara, che indicazioni hai dato? Sì, sì, sono contento perché sto riprendendo da tanto tempo, penso che quasi un mese che io non stavo giocando, ma adesso penso che il mister sta dando un'opportunità con questa amichevole che fa molto bene per chi non gioca, per girare un po' la gamba. E tra l'altro hai iniziato di nuovo terzino-destro, poi sei tornato nel tuo ruolo originale, come ti sei trovato? Mi sono trovato bene, perché anche in Brasile ho già giocato terzino-destro e a me non cambia tanta cosa. Io sono qui a disposizione dei misteri e quello che voglio fare è dare il massimo per stare sempre pronto. Ovviamente tu l'ambiente lo conosci, quindi i tempi di ambientamento sono minori e già sei pronto anche, perché no, a scendere in campo se sarai chiamato in causa. È vero, è vero, già conosco bene i ragazzi, conosco bene l'ambiente, è quello che ti ho detto, sono pronto, a disposizione dei misteri, se il misteri ha bisogno sono lì per dare una mano alla squadra. Che idea ti sei fatto, dall'esterno prima, dall'interno adesso, di questo momento dell'Udinese, con queste sconfitte, quando domenica sembrava essersi messa benissimo la partita? Sì, è vero, è stata una sconfitta difficile per noi, perché penso che ogni calciatore è entrato per vincere la partita, però penso che il mister sta lavorando bene questa settimana per andare lì a Roma contro la Lazio a fare una grande partita. E l'ultima che ti faccio è su Zico, ovviamente anche tu da brasiliano l'hai visto, l'hai incontrato, vi siete detti qualcosa? Sì, sì, siamo visti lì a centro di allenamento, tutti i brasiliani, molto contenti con lui qui, perché per noi è un idolo, Zico è un idolo per noi, e siamo stati contenti di rivederlo a tornare a Udinese. A proposito dei brasiliani, a questo punto anche di Evandro, che idea ti sei fatto? Un giovane che è stato rallentato un po' da un infortunio, però ha tanta qualità. Sì, tanta qualità, Evandro, io non conoscevo, però sono arrivato qui e già ho visto che lui ha tanta qualità. Però questo è il male di un giocatore, quando un giocatore sta arrivando a questo livello e ha la lesione, come è successo con me. Penso che lui adesso sta ritornando, ritornando, e penso che può fare tanto bene con il Udinese.